Il Consiglio Comunale ha appena approvato due atti di particolare rilievo. Con il primo ha modificato quello che in gergo si chiama il DUP, il documento unico di programmazione che sono sostanzialmente le scelte che l'amministrazione comunale intende fare per un anno e intende fare per il triennio. Uno degli atti più importanti è che chiudiamo definitivamente una transazione con la società sportiva che utilizza lo Stadio San Paolo, transazione che si trascinava dal 2009 per lavori fatti dalla società d'accordo col Comune di Napoli che se non risolti si avrebbero messo nell'impossibilità di avere un rapporto regolare con la società con tutto ciò che questo avrebbe comportato. Dopo un'intensa giornata di lavori iniziata questa mattina a mezzogiorno il Consiglio Comunale ha approvato intorno alle 23 la manovra di assestamento di bilancio e il documento unico di programmazione, ossia il piano strategico e operativo che la Giunta Comunale è tenuta a presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno. La seconda cosa abbiamo approvato l'assestamento cioè a metà anno abbiamo regolato i nostri conti, le entrate previste sono effettivamente quelle, abbiamo avuto degli incrementi positivi, le uscite abbiamo avuto purtroppo ancora debiti fuori bilancio particolarmente significativi dovuti a delle sentenze negative nei nostri confronti, i conti sono in equilibrio, abbiamo dovuto procedere a degli assestamenti. Ne abbiamo anche approfittato per rendere noto il Consiglio che stiamo stringendo sui tempi dell'accertamento abbiamo grandi debitori, poche persone, poche aziende ma che devono tanto al Comune di Napoli sull'Imu, sui rifiuti, sui fitti, sulle multe a questo punto vogliamo riscuotere rapidamente non solo perché dobbiamo uscire dall'indebitamento ma perché dobbiamo dare risposte ai cittadini napoletani a partire dai loro diritti e dal loro bisogno di vivere una vita di qualità.